E' crollato il cornicione, un pezzetto di cornicione là sotto, stamattina? Ma ci stava passando qualcuno? La signora della ditta, delle pulizie, stava passando lì e l'ha sfiorato, come ha detto lei, almeno ci ha raccontato. Questo che reparto è? Da dove faccia? E' un'entrata di servizio che porta tutti i reparti sopra, porta gli ascensori, porta la lavanderia, la cucina, ci passano parecchie persone. E' fondamentale, quindi poteva essere una cosa peggio, poteva succedere qualcosa di grave. Che cosa è successo? Ce lo racconta verso che ora? Non lo so a che ora. Stava entrando, stava uscendo? Che cosa è successo? Stavo uscendo, ho sentito sfiorare il pezzo da sopra e mi sono girata proprio dietro e ho trovato... Si, mattoncini, si è messa paura? Un po' si. Lo prendeva in testa e finiva male, insomma. E finiva... La fianco, all'obbitorio. Va bene, ora sta meglio, si. Si, 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 ha passato dai. Ok, grazie. Grazie a te. Grazie.